Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo concept analysis Odio dover fare la voce fuori campo dopo letteralmente 5 secondi di video Ma ovviamente questo è un critical hit e non un concept analysis Scusate stavo registrando insieme al video di Rolly Collie Il mio cervello è deciso per partire, boh, per le bamas Vabbè, eeeh, buona visione Prima di iniziare ci tengo a chiarire un fatto riguardo allo scorso concept analysis Legato alle critiche fatte a Game Freak riguardo a Pokémon Spada e Pokémon Scudo Sono consapevole di aver commesso alcuni errori tecnici per quanto riguarda la parte meramente tecnica per l'appunto del concept analysis E ho già bloccato in alto un commento che specifica e chiarifica il tutto Per il resto il video resta comunque online perché comunque dal punto di vista economico Credo di aver detto delle cose importanti che non erano ancora state dette all'interno delle varie discussioni riguardo all'argomento Di conseguenza mi sarebbe dispiaciuto sacrificare anche queste per dei banali errori Per quanto riguarda invece il Critical Hit di quest'oggi andremo a parlare, come già avrete letto dal titolo Di un argomento che ciccia fuori ogni volta che ci si approccia ad una nuova generazione, ossia le stagioni Questa feature credo sia richiesta dai tempi della quinta generazione e quindi dai tempi di Pokémon bianco, nero, bianco 2, nero 2 E ad ogni generazione tra i desideri più comuni di ogni giocatore Pokémon insieme al Pokémon che ti accompagna durante il tuo viaggio È proprio la reintroduzione di queste benedette stagioni Ma siccome sapete che il Critical Hit tendenzialmente va a dare opinioni controcorrente Quest'oggi vi spiegherò perché, almeno dal mio punto di vista, le stagioni non sarebbero positive per un gioco Pokémon bensì nocive E per spiegarvi perché penso ciò voglio partire da un argomento che è totalmente scollegato, almeno in apparenza E che ci proietta dalla quinta generazione addirittura alla settima e dunque alla regione di Alola Come ho già fatto intendere in alcune tier list che ho portato sul canale, ritengo che la regione di Alola sia la peggiore all'interno di tutte le regioni che abbiamo visto nella serie principale di Pokémon Alla domanda del perché penso ciò segue una risposta molto semplice Alola è di fatto una regione monotona Ed è monotona perché ispirandosi ad un territorio particolarissimo come quello delle Hawaii All'interno di ogni sua isola, all'interno di ogni suo ambiente fornisce le stesse sensazioni Dunque delle sensazioni di un ambiente tipicamente tropicale E quando tenta di dare delle variazioni come ad esempio il monte della Nakira nei pressi della Lega Pokémon Questo anziché risultare una variazione gradita risulta qualcosa di totalmente scollegato dall'ambiente e ti lascia una sensazione veramente di straniamento Cosa c'entra tutto questo con le stagioni? C'entra molto perché di fatto le stagioni ricreano lo stesso effetto che propone Alola Dire che la feature delle stagioni permette alle regioni di cambiare la propria fisionomia di mese in mese Nasconde al suo interno anche l'esatto opposto in un certo senso Cioè il fatto che in un singolo mese la regione deve tutta uniformarsi alla stagione e dunque diventa molto monotona Se prendiamo un ipotetico giocatore A che inizia una run su Pokémon bianco e nero e si ritrova all'interno dell'inverno E presumendo che in un mese finisca il gioco Vivrebbe la sua intera avventura completamente circondato da neve Con una regione che si uniforma a un clima specifico e che di conseguenza riporta sempre le stesse strutture Avere una regione completamente sommersa dalla neve per un'intera run di fatto è una situazione monotona Ma lo è anche avere una regione completamente primaverile, estiva o autunnale Credo che in questo senso la feature delle stagioni sia sbagliata perché propone un tipo di realismo che in realtà è nocivo Di fatto la necessità di uniformare un intero ambiente ad un clima specifico per un mese intero Non permette di creare delle ambientazioni più elaborate come ad esempio non accade a Unima ma invece accade ad Oen Da questo punto di vista infatti Unima è molto più monotona di Oen perché deve uniformarsi ogni mese ad un clima specifico Mentre Oen che è libera da questa feature è in grado di fornire ambientazioni soprattutto per quanto riguarda i percorsi mozzafiato Mi basta pensare al percorso che connette il deserto Brunifoglia dove piove la cenere Banalmente anche al deserto, al vulcano che è sicuramente molto più elaborato del monte Antipodi Insomma il concetto è che senza stagioni c'è più varietà di ambienti Riprendendo il monte Antipodi che ho citato poco fa Questo dovrebbe essere un vulcano ma di fatto non lo può sembrare Perché per far emergere la feature delle stagioni che era peculiare di questa generazione Anche un posto come il monte Antipodi ossia un vulcano ha dovuto trovare un modo di uniformarsi E dunque è diventato più un monte che un vulcano Di fatto questo luogo penso sia il vulcano meno vulcano all'interno di tutti i giochi Pokémon Soprattutto se lo confrontiamo con i vulcani che abbiamo a Lola O addirittura giusto per rimanere in tema con il vulcano che è presente a Oen Poi ovvio lo sappiamo tutti che c'è un modo per evitare che una stagione prosegua incessantemente per un mese intero E questo modo come i giocatori di quinta generazione sapranno benissimo È quello di modificare la data all'interno del proprio 3DS in maniera tale da spostarla avanti banalmente di un mese E dunque da modificare la stagione in cui si è Passando ipoteticamente da una primavera a un'estate E certo va benissimo però in questo modo si perde molto il senso A questo punto mi chiedo non ha più senso inserire il meteo variabile come accade in Pokémon Spada e Pokémon Scudo Di fatto siamo a conoscenza che in ottava generazione il clima all'interno dell'intero gioco sarà variabile Cioè non sapremo mai che cosa potremo incontrare accedendo a un'ipotetica area E questo ovviamente aggiunge un livello ulteriore di esplorazione alla mappa Che cambia in continuazione in maniera pressa poco casuale Ecco credo che questo sia un po' il punto della situazione Cioè penso che la mutevolezza del clima sia un'evoluzione della feature delle stagioni E rispetto a queste ultime non sacrifica nemmeno quel realismo di cui abbiamo parlato precedentemente Anzi se possibile lo migliora Di fatto ciò che nella nostra vita ha più influenza a livello generale Non è tanto che gli alberi siano arancioni o che ci siano più fiorellini Ma il clima qui andiamo incontro cioè il fatto che ci sia il sole, la pioggia, la neve, la grandine e la sabbia Di fatto in questo modo non si sacrifica il realismo E si dà una sensazione di esplorabilità molto migliore rispetto a quella delle stagioni Che forse azzardo quest'opinione erano addirittura troppo realistiche Troppo monotone, troppo abituali Troppo per così dire appartenenti al nostro mondo Se poi pensiamo che ovviamente all'interno del gioco non possiamo percepire la temperatura Allora il gioco è fatto Di fatto potremmo ipotizzare che un sole all'interno di quello che noi presumiamo essere l'inverno Sia molto più freddo rispetto a un sole estivo Insomma sappiamo benissimo che a parte per quanto riguarda la neve Il clima non fa la temperatura E dunque anche lì ce la si gioca un po' di immaginazione Mentre quello che le stagioni facevano di fatto Era bloccare un ambiente su una determinata condizione climatica Con il risultato di inificiare l'esplorazione Certo è un peccato perdere ambienti autunnali Sono il primo che ama l'autunno e sono il primo che è dispiaciuto Che non ci sarà probabilmente un luogo o un momento all'interno del videogioco In cui potrò godere di alberi che perdono le loro foglie rossastre Ma di fatto è meglio così Oppure è meglio non avere una variazione di clima E avere una regione per un mese interamente estiva Di fatto l'estate in Pokémon bianco e nero Era la stagione meno caratterizzata E dunque come la mettiamo da quel punto di vista? Ci facciamo un'intera run solo con l'estate Oppure ci facciamo una run con il meteo variabile Sacrificando la possibilità di avere l'autunno Non so come la vediate voi Ma io preferirei di gran lunga la seconda E sono contento che Pokémon Spada e Scudo Stia intraprendendo questa via Piuttosto che quella delle stagioni Sintetizzando infine l'intero contenuto del video Io credo che il meteo variabile Sia una feature molto migliore rispetto a quella delle stagioni Crea più immersione all'interno del mondo Perché come ho già detto La prima cosa che noti quando esci di casa Non è se gli alberi sono rossastri Ma è il clima che di fatto c'è E infine consente di conseguenza Una variabilità molto più alta Per quanto riguarda l'esplorazione Questo ovviamente se la cosa dovesse essere trattata decentemente E proprio per questo credo che il meteo variabile Non sia altro che l'evoluzione del concetto delle stagioni Che non sacrifica in virtù di una condizione climatica Un ambiente che potrebbe essere molto più particolare Scegliendo piuttosto di inserire un meteo variabile Che sia svincolato dalla stagione Detto già ragazzi Io credo di aver detto tutto quello che c'era da dire Riguardo alla questione Ovviamente però mancano le vostre di opinioni Quindi mi raccomando Scrivetele qui sotto nei commenti Come al solito Per il resto vi invito Se il video vi è piaciuto A lasciare un bel like E un'iscrizione al canale Se non siete ancora iscritti Mi raccomando Passate dai social Per rimanere sempre aggiornati Sulle attività al di fuori del canale E in particolare da Twitch Dove sto streamando in questo periodo La campanella Per ricevere ogni giorno i feed Per il resto ragazzi Noi ci becchiamo In un prossimo video Ma ovviamente mancano le vostre opinioni Che dovete scrivere qui sotto Porca madozca Dai questa qua magari la metto come extra clip alla fine Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti